L'Interporto d'Abruzzo a Manopello Scalo diventerà uno dei gioielli dell'Italia. Struttura da 960.000 metri quadri di modernità e innovazione posta all'incrocio degli assi distributivi nord-sud ed est-ovest con 65.000 metri quadri di piazzali dedicate all'intermodalità ferro-gomma. È un distretto in grado di offrire tutti i servizi di supporto ai provider logistici. È la sfida che lancia l'Abruzzo per rendersi competitivo nel mercato globale inserendosi nella rete delle regioni del centro Italia. Queste aspettative sono state messe a confronto con rappresentanti istituzionali e operatori economici di Lazio, Marche e Umbria. Nel forum Non perdere il treno, le infrastrutture come fattore strategico di competitività e sviluppo territoriale. Tra i relatori il deputato Daniele Toto della nona commissione trasporti, estimatore e sostenitore del ruolo strategico di questa nuova piattaforma logistica intermodale. L'ammodernamento del sistema infrastrutturale abruzzese non solo non è più procrastinabile, a partire qui dall'interpolotto di Manopello. No, assolutamente non è procrastinabile e non sarà affatto. Partire proprio dall'interporto che rappresenta un punto di eccellenza nell'intermodale attraverso anche il collegamento con la ulteriore rete infrastrutturale. Abbiamo il dovere che l'imprenditoria abruzzese abbia collegamenti efficienti e rapidi e in questo senso noi ci muoviamo e ci stiamo muovendo. È pensabile un'intermodalità quindi non solamente gomma ma anche soprattutto magari ferrovia. È fondamentale se noi pensiamo inoltre che abbiamo congedato la settimana scorsa abbiamo licenziato la commissione il primo piano della logistica e per la prima volta oggi il sottosegretario verrà qui a parlare. È fondamentale un'integrazione tra la ferrovia e tra le merci sulla gomma e i porti. Questo è fondamentale. A proposito di infrastrutture ci sono anche quelle immateriali. Stiamo parlando di banda larga. Anche qui l'Ambruzzo è abbastanza indietro. Anche qui l'Ambruzzo è abbastanza indietro. Purtuttavia anche in questo caso stante la nona commissione trasporti che ha anche poste telecomunicazioni dove io ci sono è importante che l'Ambruzzo abbia un rappresentante. Anche qui ci muoveremo senza dubbio in tal senso. Al momento del suo insediamento il governo regionale, la giunta Chiodi, il presidente annunciarono la volontà di investire molto sulle infrastrutture. Oggi ci sarà anche l'assessore Morra. A che punto siamo e soprattutto il dialogo che c'è con il governo centrale e l'Unione Europea? Io penso che molto abbia fatto il governo regionale, al di là delle dichiarazioni di facciata. Molto deve ancora fare e in questo senso la assoluta cooperazione tra governo regionale e governo nazionale è fondamentale e auspicabile. Quando questa regione sarà moderna? Quando i politici saranno in grado di dare risposte che gli imprenditori merita.